Contro lo spopolamento delle aree marginali del nostro territorio e per offrire una vetrina alle tante realtà associative e imprenditoriali che hanno saputo valorizzare il patrimonio boschivo italiano. Sono stati conferiti a Roma i premi Comunità Forestali Sostenibili ideati dal PFC Italia e da Legambiente con il patrocinio di Anci e del Ministero dell'Ambiente. Abbiamo avuto 29 partecipanti con 34 progetti in tutti i settori, sia nel settore della filiera forestalegno, sia nel settore dei prodotti, sia nel settore della comunicazione che nel settore delle filiere. Valorizzare le buone pratiche nell'ampio settore forestalegno, secondo comparto manifatturiero con 41 miliardi di fattorato annuo, è cruciale per incentivare l'utilizzo di materia prima italiana, riducendo l'import e favorendo al tempo stesso la gestione attiva del territorio. Noi sappiamo che l'aumento delle foreste in Italia non è dato da politiche di biodiversità oppure dallo sviluppo di un settore di gestione, è dato piuttosto dall'abbandono delle aree interne e questo naturalmente ci preoccupa ma soprattutto dovrebbe interrogare la politica. Salutato con favore, in questo senso, l'annuncio della convocazione da parte del Governo degli Stati Generali delle Foreste e l'intenzione di utilizzare, in tempi brevi, la delega per la riforma del settore agricolo e forestale ottenuta dal Parlamento nei mesi scorsi. Filo conduttore, rafforzare le occasioni di ricchezza economica attraverso il corretto rapporto tra materie prime naturali e uomo. L'abbandono è il primo nemico dei boschi e delle foreste italiane, noi dobbiamo sempre di più rendersi conto che l'uomo ha delle chiare responsabilità nella gestione del nostro territorio e se se ne lava le mani, se fugge a queste responsabilità purtroppo il dissesto, la distruzione sono dietro l'angolo.